Benvenuti al corso online per i presidenti degli uffici di sezione. Questo corso è stato ideato dalla Segreteria Generale del Comune di Napoli con l'obiettivo di preparare i presidenti e gli altri componenti degli uffici di sezione ai compiti che sono chiamati a svolgere in occasione delle elezioni europee. Nel corso vengono descritte le procedure che devono essere seguite e viene spiegato come risolvere alcuni problemi che si potrebbero presentare durante le operazioni di votazione e di scrutinio. Il compito che l'ufficio di sezione è chiamato a svolgere è molto importante considerato che gestire adeguatamente la votazione e lo scrutinio delle schede contribuisce a far sì che tutti abbiano fiducia nel buon esito delle votazioni. Per questo è fondamentale prepararsi a svolgere il ruolo di presidente e di componente degli uffici elettorali di sezione. Ricordiamo che le informazioni contenute in questo corso sono approfondite nel libretto delle istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione e nel verbale delle operazioni. Altre informazioni si possono trovare nella sezione dedicata alle elezioni europee 2024 sul sito del Comune di Napoli. Per ogni dubbio i presidenti possono rivolgersi all'ufficio elettorale del Comune. Si vota su un'unica scheda sulla quale nella parte sinistra sono riportate le liste e nella parte destra, a fianco al contrassegno, sono riportate tre righe sulle quali l'elettore può esprimere da una a tre preferenze. Ogni elettore ha diritto di manifestare il voto di lista tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene. L'elettore può anche esprimere fino a un massimo di tre preferenze per candidati della stessa lista. Se l'elettore esprime due o tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesto diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza. La consegna del materiale destinato all'ufficio elettorale di sezione è effettuata entro le ore 7.30 del sabato delle votazioni. Alle ore 9 il presidente del seggio, dopo aver preso in consegna e aver verificato il materiale elettorale, procede insieme agli altri componenti dell'ufficio alla costituzione dell'ufficio elettorale di sezione e alle operazioni di autenticazione delle schede elettorali, che consistono nella sola apposizione del timbro della sezione sul frontespizio di ciascuna scheda. Si vota nella giornata di sabato dalle ore 15 alle 23 e nella giornata di domenica dalle 7 alle 23. Lo scrutinio avrà luogo immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. Composizione e funzionamento dell'ufficio elettorale di sezione. In questo modulo verrà illustrata la composizione dell'ufficio elettorale di sezione e verranno approfonditi per ciascun componente del seggio i compiti, i poteri, le responsabilità e le sanzioni nelle quali gli stessi possono incorrere durante lo svolgimento dei compiti loro attribuiti. L'ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente, quattro scrutatori e un segretario. Il presidente sceglie fra gli scrutatori il vicepresidente. Il segretario è designato direttamente dal presidente prima dell'insediamento. Il presidente sovrintende a tutti gli adempimenti dell'ufficio di sezione dal momento dell'insediamento fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio e garantisce in tutti i momenti il regolare svolgimento delle operazioni. Per esercitare i suoi compiti, il presidente deve conoscere approfonditamente le procedure di voto e di scrutinio, istruire gli altri componenti del seggio e vigilare sul loro operato. Il presidente decide su tutti i problemi che si verificano durante le operazioni. Inoltre, durante lo scrutinio, decide sull'annulità dei voti e, sentiti gli scrutatori, decide sull'attribuzione dei voti contestati. Il presidente è anche responsabile del mantenimento dell'ordine all'interno del seggio e può disporre della forza pubblica in caso di incidenti. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione predispone la custodia della sala della votazione adottando le misure necessarie per impedire che durante la sospensione tra il sabato e la domenica qualcuno possa entrarvi, regola la presenza e l'intervento dei rappresentanti delle liste e delle altre persone che possono entrare nel seggio e garantisce che tale presenza non interferisca con le operazioni di votazione. Spetta al presidente decidere in relazione ai casi particolari che si verificano nel corso della votazione e di cui parleremo più avanti. Gli scrutatori collaborano con il presidente durante tutte le operazioni seguendo le sue istruzioni. In particolare, durante le operazioni preliminari del sabato mattina collaborano alle operazioni di autenticazione delle schede. Durante la votazione identificano gli elettori e registrano l'avvenuta espressione del voto. Supportano il presidente durante le operazioni di scrutinio e su sua richiesta esprimono un parere sull'annulità dei voti e sull'attribuzione dei voti contestati. Gli scrutatori provvedono alla formazione e al recapito delle buste contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio. Il vicepresidente sostituisce il presidente quanto questo è assente per qualsiasi motivo. Ogni componente dell'ufficio ha diritto di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni e contestazioni. Il segretario è scelto dal presidente tra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune. Deve essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado e non deve ricadere in una delle cause di incompatibilità previste dalla legge. Il segretario cura in particolare la compilazione delle due copie del verbale delle operazioni, registra i voti nelle tabelle di scrutinio e raccoglie gli atti che vanno allegati al verbale. È necessario che il segretario ponga la massima cura nella fedele e precisa verbalizzazione di tutte le operazioni compiute nel seggio. La responsabilità penale della regolare compilazione del verbale e della raccolta e conservazione degli atti allegati è del segretario e del presidente dell'ufficio elettorale di sezione. In particolare, nella compilazione del verbale, il segretario deve curare l'esattezza e la completezza dei dati richiesti con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio e a quelli che riportano le contestazioni sollevate durante le operazioni, la perfetta corrispondenza delle indicazioni numeriche tra i diversi paragrafi e tra i due esemplari del verbale, la perfetta corrispondenza delle indicazioni numeriche riportate nel verbale e nelle tabelle di scrutinio. Validità delle operazioni L'ufficio elettorale di sezione può funzionare con la partecipazione di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente. Solo durante le operazioni di autenticazione delle schede e di scrutinio, i sei componenti devono essere tutti presenti. L'incarico di componente del seggio è obbligatorio ed è un dovere civico comperlo nel migliore dei modi. La legge prevede delle sanzioni per coloro che rifiutano l'incarico senza un motivo giustificabile o che non sono presenti all'insediamento o addirittura si allontanano dal seggio prima della conclusione delle operazioni. Durante le operazioni, i componenti del seggio sono considerati pubblici ufficiali. Ciò vuol dire che nei giorni del voto esercitano una funzione pubblica. Proprio per questo, la legge prevede che si proceda con giudizio direttissimo contro chi commette un reato nei loro confronti. I rappresentanti di lista sono le persone incaricate di seguire le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione e di verificare eventuali irregolarità per conto di ciascuna lista che concorre alle elezioni. I delegati di lista possono disegnare due rappresentanti per ogni ufficio di sezione, uno effettivo ed uno supplente. I rappresentanti di lista non sono componenti dell'ufficio di sezione, ma assistono alle operazioni del seggio presso il quale sono stati designati e possiedono alcune prerogative riconosciute dalla legge. La designazione e la presenza alle operazioni del seggio dei rappresentanti di lista è nell'interesse della lista e pertanto è facoltativa. Se presenti, sono considerati pubblici ufficiali come gli altri componenti dell'ufficio. Il rappresentante di lista deve essere elettore della circoscrizione elettorale per il Parlamento europeo. Tale requisito potrà essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato. Le designazioni dei rappresentanti di lista presso ciascun seggio devono provenire dai delegati delle liste indicate al momento del deposito delle candidature. Le designazioni sono sottoscritte con firma autenticata dai pubblici ufficiali competenti nel procedimento elettorale. Le designazioni possono essere consegnate alla segreteria del comune entro il giovedì che precede l'elezione o direttamente al presidente dell'ufficio di sezione il sabato mattina prima dell'inizio della votazione. Nulla vieta che un delegato di lista disigni se stesso quale rappresentante di lista. Se le designazioni dei rappresentanti di lista sono state consegnate alla segreteria del comune, il presidente le troverà tra le carte che l'ufficio elettorale comunale gli ha consegnato il sabato mattina e dovrà solamente segnare sul verbale il loro nome e l'eventuale presenza. Ricordiamo che le designazioni dei rappresentanti di lista devono essere allegate alla copia del verbale da inserire nella busta 5 euro. Se invece i rappresentanti di lista consegnano le designazioni direttamente al presidente, questi dovrà verificare che le designazioni siano firmate da almeno uno dei delegati della lista. L'elenco dei delegati di lista è a disposizione del seggio. In questo caso è inoltre necessario verificare che la firma o le firme dei delegati siano state autenticate da uno dei soggetti competenti e che il rappresentante disegnato sia elettore del comune, chiedendo ad esempio l'esibizione della tessera elettorale. Se non sussistono tali presupposti, non si potrà ammettere il rappresentante ad assistere alle operazioni dell'ufficio. L'elenco dettagliato dei soggetti competenti ad autenticare le sottoscrizioni è riportato nel manuale Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione al paragrafo 7.1. Non facendo parte dell'ufficio, i rappresentanti di lista possono presentarsi in qualsiasi momento delle operazioni, purché le loro designazioni siano depositate entro i termini. All'atto dell'insediamento dell'ufficio di sezione, il segretario riporta nel verbale i dati anagrafici dei rappresentanti designati. Nel corso delle operazioni, il segretario annota la presenza dei rappresentanti designati segnando il riquadro corrispondente alla giornata di presenza. I rappresentanti di lista possono assistere a tutte le operazioni dell'ufficio di sezione, prendendo posto all'interno della sala in una posizione che consenta loro di seguire le operazioni, trattenersi all'esterno della sala della votazione e far inserire nel verbale eventuali brevi dichiarazioni. Inoltre i rappresentanti di lista possono firmare le strisce di chiusura dell'urna o dell'entrata della sala e i documenti del seggio, il verbale e le buste. Possono essere contraddistinti con un distintivo della lista che rappresentano e partecipare alle operazioni di raccolta del voto da parte del seggio speciale e dell'ufficio di staccato. I rappresentanti di lista possono annotare il numero degli elettori che si presentano a votare, ma non possono prendere nota di chi vota o non vota. I rappresentanti di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da 2 a 5 anni e la multa fino a 2.065 euro. Operazioni preliminari del sabato mattina Passiamo ad esaminare le operazioni che i componenti dell'ufficio elettorale di sezione devono compiere nella mattina del sabato, prima dell'inizio delle votazioni. Il sabato mattina, entro le ore 9, i componenti nell'ufficio si ritrovano nei locali del seggio, dove sotto la guida del Presidente si procede all'insediamento dell'ufficio, alla ricognizione dell'arredamento della sala della votazione, all'accertamento del numero degli elettori assegnati alla sezione e all'autenticazione delle schede di votazione. Alle ore 9, il Presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, chiamandone a far parte gli scrutatori designati ed il segretario da lui scelto. Se uno degli scrutatori nominati non si presenta al momento dell'insediamento, il Presidente del seggio provvede alla sostituzione, chiamando alternativamente il più anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere e che non siano rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione dalla funzione di componente dell'ufficio di sezione. Nei paragrafi Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione, Ricostituzione dell'ufficio elettorale di sezione e Prosecuzione delle operazioni di votazione del verbale modello numero 15 EUR si darà atto della composizione e delle successive riunioni dell'ufficio elettorale di sezione, del luogo e dell'ora dell'insediamento e delle eventuali sostituzioni avvenute. Ricordiamo brevemente quali sono le principali prescrizioni previste dalla legge per l'arredo del seggio che il Presidente dovrà verificare prima di procedere con le operazioni. In ogni sezione dovrebbero esserci quattro cabine di cui una per i portatori di handicap. Va da sé che dove non c'è spazio sufficiente le cabine saranno di meno. L'importante è che le cabine siano disposte in modo da assicurare la segretezza del voto. A questo scopo devono essere posizionate lontano dal tavolo del seggio e dall'entrata. Le eventuali finestre su cui affacciano devono essere oscurate. L'urna deve essere posizionata su un tavolo del seggio in modo da essere sempre visibile a tutti. Inoltre la sala e le cabine devono essere ben illuminate tenuto conto che la votazione e lo scrutinio avvengono anche di notte. Nella sala delle votazioni devono essere affissi il manifesto delle candidature e il manifesto esplicativo delle modalità di voto. Le sezioni accessibili mediante sedie a ruote devono rispettare alcune ulteriori condizioni. Gli arredi devono permettere agli elettori non deambulanti di assistere alle operazioni dell'ufficio elettorale e di svolgere le funzioni di componente o rappresentante di lista. Inoltre tutti i manifesti devono essere collocati ad un'altezza tale da consentire agli elettori non deambulanti di leggerli con facilità. Almeno una cabina deve avere un idoneo piano di scrittura in modo da rispettare la segredezza del voto. Infine, la sezione deve essere segnalata affiggendo all'entrata del seggio il cartello con il simbolo dei portatori di handicap. Una volta insediato si è verificato che la sala della votazione possiede tutte le caratteristiche ricordate, l'ufficio elettorale di sezione può iniziare le cosiddette operazioni preliminari che consistono principalmente in due adempimenti accertare il numero degli elettori assegnati alla sezione e autenticare le schede per il voto. Accertare il numero degli elettori della sezione vuol dire determinare in maniera precisa il numero degli elettori che hanno il diritto al voto nella sezione e di conseguenza autenticare il corrispondente numero di schede elettorali. Inoltre, compiere questa operazione con rigore permette di evitare errori di quadratura nel riscontro fra il numero delle schede autenticate e non utilizzate e il numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato. L'accertamento consiste nel contare il numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione e contare il numero degli elettori iscritti nella eventuale lista aggiunta. Se nella sezione è presente un seggio speciale o un ufficio distaccato per la raccolta del voto nei luoghi di cura o del voto domiciliare, il Presidente aggiunge il numero di tali elettori a quello degli elettori assegnati alla sezione ed autentica una scheda anche per loro, analogamente nell'ipotesi in cui vi siano studenti fuorisede ammessi a votare nella sezione. In ogni caso, il numero delle schede da autenticare deve corrispondere al numero degli elettori assegnati alla sezione accertato nel verbale. Dopo aver determinato il numero degli elettori della sezione e quindi il corrispondente numero delle schede da autenticare, il Presidente consta l'integrità della scatola che le contiene e la apre. Se nell'aprire la scatola sigillata con le schede ci si dovesse accorgere che non ci sono sufficienti schede da autenticare o che una volta autenticate ne avanzano troppo poche, il Presidente contatta immediatamente l'incaricato dell'ufficio elettorale comunale che provvederà a far recapitare un'ulteriore scorta di schede alla sezione. L'autenticazione consiste nella posizione del timbro della sezione e della firma di uno scrutatore. Una volta autenticate, le schede vanno conservate nella scatola che conteneva le schede consegnate alla sezione, che viene sigillata. Le schede non autenticate sono conservate in una busta. Si ricorda che durante l'autenticazione delle schede tutti i componenti del seggio devono essere presenti. All'atto dell'insediamento dell'ufficio va data comunicazione all'ufficio elettorale centrale della regolare costituzione dei seggi. Al termine va data comunicazione della regolare conclusione delle operazioni preliminari. Le comunicazioni vanno di norma consegnate al Delegato del Sindaco secondo le istruzioni fornite dallo stesso.